I commercianti torresi non ci stanno, no a un nuovo lockdown. Questa mattina alle telecamere di TV City abbiamo raccolto le loro opinioni. Dalle parole emerge un certo malcontento per i mesi appena trascorsi, in cui lamentano il mancato supporto delle istituzioni. Sulla possibilità di un nuovo lockdown, i commercianti esprimono totale dissenso, invitando il governatore De Luca a trovare soluzioni alternative. Chiudere i negozi e fare il lockdown è la cosa più semplice da fare, tanto a quelli a rimetterci siamo solo noi, tutto il commercio e tutte le attività. Purtroppo noi non possiamo subire un altro lockdown. Se il governatore De Luca decide una cosa del genere, deve sapere anche che cosa poi dopo risolvere la questione dell'area commerciale di tutto il Vesuviano, perché penso che secondo me un'altra chiusura porterà la chiusura totale di tutte le attività commerciali della Campania. Quindi lei da commerciante ha paura? Sì, ho paura, non è che ho paura del virus o delle cose del genere, perché bene o male ci stiamo imparando, o bene o abbiamo imparato a conviverci. Ho paura che si possa decidere un'altra chiusura e non so che cosa poi dopo possiamo fare per riprenderci. Noi abbiamo passato già tre mesi di inferno, senza essere aiutati e senza altro. Penso che sarà la nostra rovina se succederà di nuovo un lockdown, è una distruzione per noi. Come hai vissuto i mesi precedenti, quelli appunto del lockdown? Lo racconto, se ne è sentito tanto, che noi commercianti siamo stati malissimo. Se dovessi parlare col governatore De Luca, che soluzione proporresti in alternativa alla chiusura totale? Di stare, diciamo come stiamo vivendo adesso, siamo attenti, mettiamo le mascherine, cavendo le nostre prevocazioni, giù se non possiamo stare. Spero che non si faccia questo lockdown, perché già la situazione commerciale è molto, molto, diciamo, critica in questo periodo, dopo il lockdown di mesi fa. È stato un momento molto drammatico per i commercianti? Sicuramente, a livello economico, non so per quanti anni pagheremo le conseguenze. Cosa ne pensa del comportamento del cittadino torrese? Stiamo, stanno rispettando le regole? Sì, ma diciamo che secondo me i cittadini stanno facendo, diciamo, il loro dovere, perché io vedo che distanziamento, mascherine, eccetera. Quello che invece non rispettano sono i giovani che li vedo assembrati senza rispettare nessun tipo di, diciamo, precauzione. È una tragedia che se ci chiude, ci chiude per sempre. Questo è quello che penso. Restrizioni sì, però, cioè, se ci chiude totalmente non riapriamo. Cioè, sicuro non riapriamo. Come hai vissuto i mesi della chiusura, del lockdown da commerciante? Non è stato facile, soprattutto che le spese si accumulavano. Cioè, alla fine il proprietario vuole il fitto, lo Stato vuole le tasse. È una tragedia. Se dovesse esserci la necessità per la salute pubblica e per tutelare la nostra vita, di tutti noi comuni mortali, sì. Pensa che i cittadini torresi stiano rispettando le regole? Assolutamente no. Basta guardare vicino ad alcuni bar l'assembramento che ci sta. Come ha vissuto i mesi della chiusura, del lockdown da commerciante? Allora, da commerciante male, da persona fisica ancora peggio. Anche perché stavamo soli e mia moglie in casa e abbiamo una famiglia molto numerosa che era sparsa e che non potevamo vedere. Io penso che un secondo lockdown non ce lo possiamo permettere in nessun modo, sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista economico. Perché comunque le aziende sono molto molto in difficoltà, sia le più grosse che le piccole come noi dettaglianti. Noi dobbiamo prevenire, dobbiamo anche reprimere se è il caso, in maniera severa, però non possiamo permetterci un secondo lockdown, assolutamente. Da commerciante, da chi vive, ecco proprio il negozio, secondo lei come si stanno comportando i cittadini torresi? Stanno rispettando le regole? Allora, io credo che molte persone siano state molto mature per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi. Certamente c'è una piccola parte che deve essere sempre educata e richiamata, però io credo che con i dovuti controlli si possano anche modificare, correggere alcuni comportamenti sbagliati, come ad esempio degli assembramenti che ancora vedo all'esterno di bar, locali, ristoranti, eccetera. Però grosso modo io credo che la popolazione sia stata abbastanza responsabile e lo sia ancora. Qual è l'appello che faresti al presidente De Luca? I controlli e la repressione nei confronti di chi sbaglia, o comunque in difetto, è alla base di tutto. Però chiudere indistintamente, creare situazioni appunto di lockdown, secondo me in questo momento non è la soluzione più saggia.